La Puglia non tratta è un progetto per difendere uomini e donne dal grave sfruttamento lavorativo e sessuale, è un progetto per la presa in carica individualizzata e globale delle problematiche che ruotano intorno a questa problematica. Il grave sfruttamento lavorativo e sessuale è un gravissimo reato che viene anche declinato come riduzione in schiavitù. La Regione Puglia da sei anni ha in atto sul territorio regionale questo progetto che è condotto da sette enti attuatori su tutto il territorio regionale e nella provincia di Foggia, in particolare dalla cooperativa Medtraining di Foggia. Noi abbiamo servizi di residenziali per ospitare le persone vittime di tratta, abbiamo otto posti letto e inoltre offriamo servizi di consulenza legale, psicologica, lavorativa, nonché c'è una forte presenza nelle strade della provincia di Foggia sulle statali che vanno verso Sansevero, verso Chieuti, verso Manfredonia e verso Cerignola con un equipaggio composto da donne che incontrano le ragazze che si prostituiscono sulle strade. L'unità di strada del progetto La Puglia Non Tratta si occupa prevalentemente di riduzione del danno in strada. Noi le operatrici del progetto incontrano le donne che lavorano o sono costrette a lavorare nelle strade principali della provincia di Foggia, le arterie principali, distribuendo generi di conforto quali acqua, qualcosa da mangiare durante la giornata, ma soprattutto degli strumenti di prevenzione per la tutela sessuale, della salute sessuale, quindi in particolar modo profilattici, gel disinfettante, guanti, durante comunque il periodo della pandemia, quindi anche al momento attuale, anche le mascherine. Ci occupiamo inoltre di raggiungere le donne che lavorano o sono costrette a lavorare all'interno degli insediamenti informali, quindi i ghetti, della provincia di Foggia, in particolare a Borgo Mezzanone, alla cosiddetta pista e al Gran Ghetto di Rignano. Una differenza sostanziale che è ormai evidente in tutta Italia è certamente la presenza inferiore su strada delle donne di origine nigeriana e la presenza invece massiccia delle donne comunitarie. Grazie. 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 Grazie.